Cari amiche e cari amici di Rosini TV, buongiorno a voi. Sabato 19 agosto siamo puntualissimi alle 7.20 nell'orologio di fronte a me sulla sinistra. Scorre l'orario. Un saluto da Antonia Stutti e un saluto da Andrea Sabatini che ci segue dalla regia per mandare in onda la nostra rassegna stampa o come tanti la definiscono anche la lettura dei titoli dei principali quotidiani locali. A noi piace chiamarla rassegna stampa soprattutto il sabato quanto poi affronteremo anche dei temi di carattere nazionale perché è nostra tradizione farla in questo modo il giorno che precede la domenica. Un saluto ai tanti amici che già sono collegati con noi Michela, Fiorella, Ornella, Antonio davvero un grande saluto a loro attraverso la pagina Facebook ci seguono e mandano i commenti. E' anche molto interessante il fatto che poi tante persone ci rivedono nel corso della giornata e ci dicono per esempio che abbiamo utilizzato un detto sbagliato. Io chiedo scusa per il fatto che ieri ho utilizzato un detto sbagliato o meglio confuso un po' gli animali perché ho detto il serpente che si morde la coda giustamente mi è stato fatto notare che è il cane che si morde la coda. Lo fa anche il serpente ma in maniera decisamente diversa. Scusate la digressione ma era simpatico sottolineare questo aspetto perché? Perché ci dà la misura del continuo feedback che c'è fra noi che vi raccontiamo, le cronache che vi leggiamo i giornali che facciamo i telegiornali, che siamo qui per raccontarvi quello che succede a Pesaro e voi che ci seguite quindi ci dite. Potevate dire questa cosa in maniera migliore? Benissimo perché davvero ogni occasione è giusta per migliorare e tentare di essere sempre più precisi in quello che si dice. Per essere precisi questa mattina cominciamo con il mercato di Fano che si svolge come tutti i mercoledì e i sabato mattina e vedete le bancarelle di piazza 20 settembre a Fano già belle organizzate, sono talmente tante come vedete che praticamente non c'è raggio di sole sotto di esse anche se come vedete il sole comincia a illuminare la bellissima piazza di Fano. Le locandine di Corriere Adriatico e il resto del Carlino questa mattina ci fanno vedere ciò che è successo nella spiaggia di Ponente a Pesaro, il resto del Carlino vandali in spiaggia decine di lettini squarciati. Vedremo poi, e si tratta della fotonotizia del resto del Carlino cosa è accaduto, invece il Corriere Adriatico ci racconta una bella storia, perde tutto in un incendio adesso torna ad aprire il negozio di dischi, un negozio di dischi nel centro di Pesaro grazie ai fondi raccolti. Sono queste le due principali notizie strillate dalle locandine di Corriere Adriatico e Resta del Carlino che questa mattina, l'edicolante dal quale ci rivolgiamo prima di venire qui in Via degli Abeti a Rossini TV per acquistare i quotidiani, ce le ha messe proprio su in un secondo per farci questo servizio graditissimo. Prima pagina del fascicolo pesarese del resto del Carlino, ve l'abbiamo detto, fotonotizia, vandali in spiaggia, vedete qui bagni ridolfi con il bagnino che fa vedere ciò che è successo e chissà perché qualcuno si è divertito, vedete, a rovinare il lettino in questo caso, ma è uno dei tanti che sono stati squarciati, davvero un atto di teppismo molto 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 antipatico. Poi titolone del resto del Carlino, sostituito l'autovelox milionario, è una questione tecnica, è stato sostituito proprio l'attrezzo, un grido di dolore dei commercianti, degli esercenti del centro storico, teatro, il cantiere senza fine, saranno necessari nuovi lavori, serve più sicurezza strutturale e gli esercenti, come vedremo, comunque non sono contenti del fatto che quest'anno il ROF non sarà in centro. Poi altre notizie, maxi antenna, siamo a Mondolfo, a due passi dal cimitero, il TAR dice di sì e poi altro grido di allarme, bisogna pulire i torrenti, il tempo è già scaduto, considerate che siamo a fine agosto, l'anno scorso accaddero, come tutti ci ricordiamo, degli eventi davvero drammatici a metà settembre, quindi ci vuol poco perché arrivi il periodo delle grandi piogge, quindi è veramente il caso di intervenire al più presto per risolvere questo problema. Resto del Carlino che apre anche oggi con l'autovelox di Cagli, è una vicenda d'altronde che sta davvero appassionando, si può dire a livello nazionale, autovelox Cagli cambia modello, sostituito quello da 3,15 milioni a Cosenza è stato sequestrato. L'autovelox di Cagli è cambiato, non è più lo stesso, prima si trattava di un modello, non entriamo nei tecnicismi, stesso tipo di quello sequestrato 20 giorni fa a Cosenza. Questa macchinetta ha elevato nel 2022, pensate, verbali per oltre 3 milioni e 150 mila euro, cui si sommano poi altri quasi 500 mila euro di multe, quindi è stato cambiato l'apparecchio, è questo apparecchio che rileva la velocità, l'abbiamo detto anche ieri, a seconda di dove si viene, o prima di entrare a Cagli o appena se ne esce a pochi centinaia di metri dalla termine della superstrada a quattro corsie, posizionato in una curva. C'è anche una lettera di un lettore del Carlino, perché l'ha mandata al comune, ma l'ha mandata anche al Carlino, chiaramente per farsi sentire, dove si lamenta con il sindaco di Cagli, dicendo che non è questo il modo per fare prevenzione, ma in questo modo si fa solamente cassa. Una notizia positiva per chi è stato vittima dell'alluvione dello scorso maggio è, vi ricorderete, quando il parcheggio di San Decenze, gestito da Pesaro Parcheggio, è stato completamente invaso dall'acqua, distruggendosi in maniera concreta diverse macchine, distruggendo nel senso che ovviamente c'è stata l'esondazione del torrente Genical, l'acqua è andata nel parcheggio, ha rovinato tantissime macchine che erano lì parcheggiate, è arrivato il momento in cui l'assicurazione di Pesaro Parcheggi garantirà 30 mila euro massimale a coloro che hanno subito danni, chiaramente i 30 mila euro in alcuni casi potranno servire per rimediare a quelle che sono stati appunto i danneggiamenti derivati dall'invasione dell'acqua nel parcheggio, in altri casi no, c'è l'intervista al possessore di una Mercedes che dice che quei 30 mila euro non ci ripara nemmeno la centralina, tanto per dirvi, però tanto è almeno, come si dice sempre in questo articolo, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Resto del Carlino che ci porta poi a una lama in tela da parte di chi vorrebbe dormire e invece viene buttato giù dal letto da un concerto, siamo in Viale Trieste, ieri mattina all'alba un ospite dell'hotel Charlie di Viale Trieste si è precipitato, trafelato al piano terra temendo fosse scoppiando un incendio, invece pensate era un concerto di clarinetto, quindi evidentemente ha confuso il suono di questo strumento con una sirena, quindi siamo addirittura a questi livelli, lamentandosi del fatto che forse questa manifestazione è avvenuta troppo presto, considerate che il concerto rientrava all'interno dei notturni oliveriani e quindi tutto ciò ha portato comunque a un certo scompiglio perché vedete è anche immortalato dalla foto, il musicista col suo clarinetto che in Viale Trieste suonava, considerate che appunto era molto molto presto, le 5.30 quasi buio e lui si è lamentato e quindi addirittura chiamando i carabinieri. Vandali in spiaggia, eccoci qua, tagliati più di 40 lettini, i bagnini inconcepibili. Riccardo di Bagni Ridolfi, l'abbiamo visto anche nella foto di copertina, fa vedere i danni subiti, indagano i carabinieri, qualcuno armato di coltello ha colpito nella notte, i più danneggiati per quanto riguarda la riviera di Ponente sono i bagni Ridolfi e Tino, si fa del male a chi lavora. Un amare inizio di giornata, quello di ieri mattina per i bagnini degli stabilimenti della spiaggia di Ponente di Pesaro. Nella notte infatti qualcuno ha tagliato i lettini delle prime file degli stabilimenti di Bagni Tino fino a Bagni Ridolfi utilizzando un coltello, tagli verticali e tagli orizzontali. Ormai come abbiamo cerchiato sono molti i bagnini, i balneari che comunque assoldano degli apparati di vigilanza privata per far sì che vengano sorvegliati i propri stabilimenti, ma purtroppo ciò non è sufficiente. La notte è lunga, per quanto ci sia il vigilante che magari gira attraverso i bagni, basta aspettare che si sposti per andare in quello successivo ed ecco che i simpaticoni fanno le loro proprio così, i raid per rovinare in realtà chi lavora. Considerate che dietro a un lettino rotto c'è un danno, un danno vero e proprio che deve essere riparato e quindi immaginiamoci che grande disagio per il bagnino è veramente una questione inconcepibile e speriamo comunque che chi si rende protagonista di questi atti vandalici in realtà sia al più presto individuato più che altro per fargli quantomeno capire la lezione e rimediare ai danni che fa. Una bella intervista ad Anastasia Bartoli, Cecilia Gasdia, madre maestra, il Roff è un onore, intervista al soprano figlio d'arte che è stata fra le più applaudite in Edoardo e Cristina che domani va in scena con l'ultima replica. Bellissima la sua intervista, racconta della sua carriera proprio di cantante e soprattutto fa una bella sottolineatura quando dice che a lei piace tantissimo lanciarsi col paracadute, lo faceva prima di diventare cantante professionista perché dice meglio non rischiare troppo e dedicarsi al canto. Quindi davvero brava, la vedete con la sua grinta sul palco, ha vinto i tantissimi spettatori che seguono il Roff. Vi garantiamo che pur non essendoci la frequentazione del Roff nel Teatro Rossini per i motivi che adesso andremo a vedere molto presto. C'è tantissima gente appassionata, musica che viene a Pesaro per seguire il Roff, contenta, felice, segue per gli interi dieci giorni tutte le opere e sono già tutti proiettati sul 2024, tantissimi melomani non vedono l'ora che arrivi il prossimo anno perché si aspettano tantissimo, grazie anche al programma del Roff del 2024, dal festival che onora Rossini da tantissimi anni a Pesaro. Quindi davvero il 2024, fra le altre cose, prevederà anche un Rossini Opera Festival davvero in grande spolvero. Grande spolvero che speriamo che sia condito soprattutto dall'utilizzo del Teatro Rossini. Vedete il resto del Carlino lo definisce addirittura la fabbrica di San Pietro, definendo questa bella metafora dicendo che il Teatro Rossini e l'edificio teatrale intitolato al grande compositore pesarese pare l'opera di San Pietro, ovvero un cantiere infinito. Effettivamente sono state fatti degli altri rilievi, si è visto che si deve fare un ulteriore intervento da 230 mila euro, pensate affidato alla stessa ditta che si sta occupando già del cantiere principale, per migliorare il consolidamento del teatro. Quindi questi lavori sono davvero lunghi, purtroppo hanno impedito che quest'anno il Teatro Rossini ospitasse le opere del Roff, ma siamo assolutamente sicuri che entro qualche mese tutto sarà posto e il prossimo anno la casa di Rossini sarà occupata dalle note immortali del grande Gioacchino. Polemica sulla pediatria a Fano. Interviene Edoardo Berselli, direttore sanitario. Non si sbilancia, ma conferma che ci sono valutazioni in corso sul fatto che quindi pediatria molto probabilmente sarà accorpato all'ospedale di Fano, ma il tutto perché? Perché sono ormai, si può dire, siamo alla vigilia dei lavori che dovrebbero portare alla realizzazione del nuovo ospedale a Muraglia, quindi si stanno studiando tutte le soluzioni per spostare i reparti dall'ospedale di Muraglia, chiaramente a Fano e a Pesaro, per dare continuità ovviamente alle cure di chi ne ha bisogno. Ecco che quindi Edoardo Berselli sottolinea il fatto che molto probabilmente, sì, avverrà questo, ma le motivazioni sono ben chiare, si sta davvero cominciando a studiare in maniera molto pratica e concreta il passaggio dei reparti per far sì che si possa costruire il nuovo ospedale a Muraglia. Quindi al di là della polemica, poi vedete ovviamente l'opposizione si mette davanti al Salvatore per protestare per quanto accadrà con appunto lo spostamento di pediatria e l'accorpamento a Fano, che è molto probabile che avvenga, per protestare contro questa soluzione, punti di vista chiaramente che sono diversi a seconda del lato politico dal quale si guardano. Siamo a Franco Bertini, interessante la lettera perché? Perché in realtà non entriamo nel merito del contenuto, ma entriamo nel merito del concetto. C'è un lettore che non si firma, fa la sua denuncia, peraltro se la prende con gli uffici di Via Mameli che è il mastodontico edificio degli anni 70 e al di là del contenuto della sua lettera, Franco Bertini dice sì, ok, tu dici tutte queste cose, però non ti qualifichi, non dici chi sei, quindi questo già di per sé è sbagliato perché chi fa una denuncia deve sempre circostanziarla con nome e cognome e con fatti concreti. Quindi molto interessante questa botta e risposta fra il lettore e Franco Bertini che poi si diverte nel suo blog sulla sinistra. Abbiamo sottolineato alcune delle sue freddure, ce n'è un paio che davvero sono straordinarie, non possiamo non leggervele, chiaramente vi invitiamo poi ad acquistare il resto del Carlino per leggerle tutte perché ne vale davvero la pena. La prima, i due consiglieri regionali pesaresi, Nicola Baiocchi e Andrea Biancani, stanno litigando sul reparto di pediatria. I soliti capricci fa bambini, bellissima questa. Si chiama Piazzale degli Innocenti perché i residenti non hanno nessuna colpa per come è ridotto. Anche questa è carina. E poi leggiamo l'ultima che riguarda il nostro carissimo amico Carlo Pagnini. Carlo Pagnini è anche testimonial delle truffe contro gli anziani. Se qualcuno ti frega, lui ti fa fare una risata in dialetto. È vero, ma è molto interessante, ricordiamoci, la campagna dove il nostro amico Carlo Pagnini è testimonial proprio quello sulle truffe e sugli anziani perché permette a chi comunque magari in qualche situazione potrebbe trovarsi in difficoltà contro persone che ricordiamo sono espertissime nel truffare gli altri, a avere delle armi in più per poter capire cosa sta succedendo e magari non incorrere in quelle davvero spiacevolissime situazioni nelle quali ci si ritrova fregati senza nemmeno essere resi conto perché purtroppo qualcuno molto bravo è riuscito a truffarti. Quindi un elogio a questa campagna dove Carlo Pagnini è testimonial. Stop alla sosta gratis e il comune paga. Di cosa si tratta? Innanzitutto ci siamo spostati a Fano. Sono 25 mila euro, pensate, i soldi che il comune paga alla società, alla ditta Furlani, Celso e compagni per affittare due aree cittadine di proprietà di questa ditta e poterle adibire a parcheggio durante la stagione estiva. Sono circa 2.500 metri quadrati. Uno è all'ex albergo Vittoria Lido e poi ci sono 900 metri quadrati in via Caponelli a Ponte Sasso. In poche parole il comune affitta questi spazi per poter permettere agli automobilisti di parcheggiare gratis e spende 25 mila euro. Quindi c'è una questione da una parte che chiaramente meritoria perché si mettono in condizione le persone, i turisti, di poter usufruire di uno spazio dove parcheggiare gratuitamente, dall'altra chiaramente il comune paga per questo servizio una società in conseguenza del fatto che in realtà non è stato rispettato fino in fondo il piano regolatore che addirittura avrebbe previsto nel tempo l'acquisto di queste due aree da parte del comune. Comunque sia, almeno le persone che usufruiscono di questi spazi e vogliono andare al mare in quei luoghi possono contare su un parcheggio che non si paga. Poi, sempre a Fano, polemica politica, non poteva essere altrimenti, mentre a Urbino si lavora e vedete si demoliscono le scuole come abbiamo visto anche ieri, a Fano l'Udc dice perché il Nolfio è fermo mentre a Urbino si lavora? Paolini risponde, state tranquilli, nessun ritardo, il cantiere partirà a fine settembre come era previsto. Quindi qui si parla di demolizione delle scuole, chiaramente c'è di mezzo anche la provincia di Pesaro-Urbino che è l'ente, l'amministrazione che si occupa delle scuole, è stato quindi previsto questo intervento a Fano a fine settembre, quindi i fanesi stiano tranquilli che gli urbinati da questo punto di vista non è che siano migliori di loro. L'ite tra associazioni, volano gli stracci, il turismo non si improvvisa. Cos'è successo? Torniamo sulla polemica fanese che in realtà si è svolta fra esercenti locali e coloro che hanno puntato sull'organizzazione della manifestazione Birra d'Augusto che si è svolta fino al 16 settembre vicino alla Rocca Malatestiana di Urbino. Grande polemica fra Confesercenti e Confcommercio che sono le due associazioni che si occupano chiaramente degli esercenti, di coloro che hanno attività commerciali in tutti i luoghi, in questo caso parliamo di Fano. Il direttore di Confcommercio è molto duro nelle sue parole, dice che appunto il turismo e le questioni sul turismo non si improvvisano. La polemica ricordiamo è nata dal fatto che molti commercianti fanesi si sono lamentati con chi aveva permesso l'organizzazione di questa manifestazione che ha convogliato tante persone alla Rocca Malatestiana ma ha portato soldi solo a coloro che erano lì, i food truck, chi magari veniva da fuori Fano, sono andati tutti a mangiare e a bere in quest'area lasciando vuoti i locali fanesi. Noi abbiamo fatto un giro, una delle ultime serie di questa manifestazione e possiamo effettivamente confermare che c'era tantissima gente a Bira d'Augusto, però vi diciamo anche che c'era tantissima gente in giro per Fano e quindi non abbiamo notato effettivamente camminando, non c'era venuto in mente questo aspetto della manifestazione che invece è stata sottolineata dai commercianti, però in realtà tutto ciò serve a far polemica fra le due principali associazioni che si occupano del commercio degli esercenti, confcommercio da una parte, confesercenti dall'altra. Paese dei Balocchi a tutto gas, stasera il teatro protagonista, domani si legge e canta Pinocchio, siamo nel quartiere di Bellocchi di Fano ma ci torneremo meglio con il Corriere Adriatico e poi antenna al cimitero Mondolfo, il Tar ha detto sì, continuano a essere individuate e posizionate, poi vedete le antenne, in questo caso l'area è questa e siamo a Mondolfo dove sarà realizzata questa antenna di Iliad, Mondolfo respinto il ricorso del Comune contro Iliad, ma l'amministrazione non si arrende, faremo addirittura appello al Consiglio di Stato, comunque a quanto pare a breve sarà installata anche a Mondolfo una di queste antenne che servono per migliorare il segnale telefonico. Poi Terre Roveresche, la vacanza a piagge finisce in caserma per sei giovani turisti molesti, pensate giovanissimi, fra 16 e 18 anni un gruppo di ragazzi in vacanza a piagge ha fatto un pochino di casino, forse troppo casino, creando davvero scompiglio nel paese, sono stati proprio individuati, sono finiti in caserma questi giovani turisti che purtroppo hanno superato i limiti. Ed eccoci poi a una notizia che abbiamo visto nella prima pagina del resto del Carlino ed è molto importante perché ci riporta a un'emergenza. È ora di pulire i torrenti, anzi è già tardi. Massimiliano Sirotti, presidente del Consiglio Comunale di Urbino, scrive al Consorzio di Bonifica, se torna la pioggia si rischia il disastro. E il tutto ha documentato con delle foto che ci fa vedere come in effetti arbusti, tronchi, legno sia posizionato in diversi luoghi strategici sul letto dei torrenti che quando li vediamo mezzi vuoti, come sappiamo, sembra quasi che non ci sia niente, che non ci scorra nemmeno l'acqua. Ma poi quando arrivano le piogge devastanti, come non dimentichiamocelo è successo solo a settembre dell'anno scorso con le conseguenze drammatiche che ci ricordiamo per Cantiano e per tanti altri luoghi della provincia di Pesaro Urbino e anche di Ancona poi si sono trasformati in fiumi impetuosi che hanno portato in certi casi addirittura morte e distruzione. Quindi davvero è già tardi, siamo a fine agosto, al più presto andiamo a fare questi lavori di bonifica perché ce n'è bisogno. Non ritroviamoci ancora una volta a dire non si è fatto nulla, si sarebbero dovuti pulire i fiumi. Chiudiamo il fascicolo di Pesaro del resto del Carlino, ci spostiamo al Corriere Adriatico, prima pagina, vedete, eccoci qua, il centro orfano del Rossini Opera Festival, i lavori al Teatro Rossini hanno penalizzato le attività e l'indotto serale che ruota intorno al Festival, è certo. L'assessore, ma le iniziative non mancano grazie a una programmazione diffusa fra singole zone. Tutto vero, ma certamente che una delle cose più belle del Rossini Opera Festival che si svolge al Teatro Rossini è il dopo teatro, è il dopo Rossini nel momento in cui si esce poi, si invade il centro storico di Pesaro, queste persone che hanno seguito, sono centinaia, l'opera dentro al Teatro Rossini poi vanno in tutti i localetti del centro, si rinfrescano alla fine dell'opera, magari vanno a mangiare qualcosa, effettivamente quest'anno tutto ciò manca per il semplice motivo che il Teatro Rossini non ospita le opere del Roff. E poi la notizia riportata dalla Locandina colletta, rinasce il negozio di dischi e questa è davvero una bella storia. Andiamo poi con il Corriere Adriatico, con le notizie regionali, sfogliamo sempre il fascicolo del Corriere Adriatico sin dall'inizio perché è sempre curioso e qui c'è un approfondimento che riguarda il caro gasolio e veti dell'Unione Europea, pesca in cattive acque, diverse cifre, vedete che sono molto interessanti sempre le tabelle del Corriere Adriatico, 11% di quote di pescato nazionale, pensate, viene fornito dalle marinerie marchigiane, quindi le marche danno davvero un contributo molto importante alla pesca a livello nazionale. D'altronde è noto che ci sono dei porti, noi ne individuiamo due, San Benedetto ma anche il porto di Fano che sono davvero noti in tutta Italia per la loro capacità di poter recepire la pesca. Poi 15.000 euro spesa mensile per i rifornimenti di una media imbarcazione e via dicendo, tutti altri numeri che interessano certamente adesso con l'aumento del carburante che per quanto riguarda i marinai, coloro che escono con le barche, è arrivato a costare 90 centesimi e significano un salasso, pensate, da 15.000 euro solo per fare rifornimento. E poi una notizia così curiosa, il titolo è davvero simpatico, sapete che c'è il problema legato ai granchi blu che in buona parte del nord adriatico stanno facendo tanti danni sulle coltivazioni di mitili e vedete qui c'è un bel titolo, i pescatori dicono qui da noi non c'è arme, sapete dove finiscono i granchi blu? In padella, ecco, quindi non potrebbe anche succedere di trovare nei banchi delle pescherie della nostra zona i granchi blu che poi finiscono in padella e magari sono anche buoni. Poi andiamo alla cronaca di Pesaro riportandoci agli esercenti che appunto si lamentano del fatto che senza Roff effettivamente quest'anno manca qualcosa al centro storico. Poi c'è chi dice comunque che ci sono clienti fedeli, giapponesi che vanno lo stesso e chi gestisce osterie che comunque confermano che i turisti hanno riscoperto l'osteria tipica dove si mangiano le cose locali e poi anche altri che dicono bene il pranzo con le iniziative di contorno. Quindi comunque sia nonostante il titolo centro orfano del Belcanto e il commercio ne risente, senza teatro siamo penalizzati, comunque alla fine si dà un colpo al cerchio, che uno alla botte quindi bene o male in qualche modo grazie anche alle iniziative appunto che sono state create e vedete da chi organizza il Roff e quindi chiaramente in questo caso l'assessore Franco Ellucci dice che grazie alla sinergia degli esergenti del centro comunque sia chi frequenta il centro storico di Pesaro durante il Roff trova comunque tante iniziative e anche posti nei quali mangiare nonostante che le opere poi si svolgano alla Vitrifrigo Arena. Poi c'è una bella intervista a Cristian della Chiara che parla del Rossini Opera Festival e comunque certamente è soddisfatto da come anche quest'anno questa manifestazione straordinaria stia dando lustro alla città. Dopo l'incendio avevo perso tutto ma oggi riapro il negozio di dischi. Una bella storia, partiamo da una frase che abbiamo estrapolato dall'articolo, in questo caso si tratta del lato buono dei social, quello che smuove la generosità del singolo. Cos'è successo? Un negozio ha preso fuoco, un negozio di dischi ma si parla di poche settimane fa era andato praticamente tutto distrutto, pensate il suo lavoro, è andato tutto in fumo in pochi minuti per un cortocircuito lungo la strada che lo portava a Siena. Quindi vedete il furgone completamente distrutto perché è andato a fuoco con dentro tutti i suoi dischi, ciò che comunque trattava nel suo negozio e poi Leonardo Delia ha fatto una richiesta sui social, su online dicendo aiutatemi a riprendere la mia attività, c'è stato davvero una risposta importantissima, un crowdfunding importantissimo che ha permesso a lui in poche settimane di potersi risistemare, riacquistare tutto ciò che gli serve per portare alla sua attività e oggi riapre il negozio di dischi che è uno dei caratteristici proprio luoghi del centro di Pesaro dove si può trovare di tutto ciò che riguarda la musica, anche vinili e comunque cose interessantissime quindi complimenti a lui, siamo tutti con lui perché c'è bisogno di queste attività. Di diverso tenore ciò che è accaduto invece in Piazzale Matteotti, spaccia Ashish ai ragazzini in Piazzale Matteotti, terribile, questa è una cosa davvero molto 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 antipatica, un 19enne, pensate era proprio un 19enne, qui si parla di straniero di origini pakistane, vendereva droga addirittura a 16 anni Ashish, non ricordiamoci che l'Ashish a tutti gli effetti è una droga e in tantissime occasioni è solo il primo passo verso poi un percorso davvero drammatico quindi gli spacciatori non si rendono conto nella maggior parte dei casi di quello che fanno, purtroppo fanno solo dei conti con quello che devono incassare e vendere al momento ma è davvero terribile pensare che magari i ragazzini di 15-16 anni vengano iniziate la droga in questo modo, ben vengano gli interventi e si faccia davvero di tutto per far sì che questa piaga sociale possa essere combattuta davvero. Sindaco e Comune faranno la loro parte ma ci sono altri Luca e Marco da tutelare, torniamo sulla notizia che ieri era quella principale del Corriere Adriatico con la coppia di due gay, di due omosessuali che hanno visto riconoscere il loro diritto ad essere padri dal Tribunale di Pesaro e vedete intervengono rappresentanti dell'amministrazione comunale soddisfatti della sentenza, in questo caso parliamo di Camilla Murgia e Marco Perugini ma che a questo punto dicono non deve essere un caso isolato, dobbiamo sempre trovare, pensare che ci sono altre coppie da tutelare. Muraglia, trasloco non semplice, tuteleremo pazienti e personale, l'abbiamo già detta questa notizia con il resto del Carlino riguarda lo spostamento dei reparti dall'ospedale di Muraglia che verranno traslati tra San Salvatore e Fano per permettere l'inizio della costruzione del nuovo ospedale di Muraglia e poi una notizia molto importante, detenuti, svolta con la nuova dirigente, Villa Fastigi apre ai percorsi di lavoro. A Pesaro i carcerati sono circa 220, numero che varia di giorno in giorno, considerate che una ventina sono donne, mentre a Fossombrone il carcere di massima sicurezza accoglie 110 reclusi, per lo più ercastolani. È arrivata una nuova direttrice, si chiama Palma Liliana Mercurio, napoletana di nascita ma romana d'adozione, 70 anni con una lunga esperienza, viene per esempio da Rimini dove anche lì c'è la regenza dell'istituto proprio di detenzione. Le sue visioni sono decisamente innovative e punterà soprattutto sul recupero dei carcerati e questo è una cosa assolutamente importante perché al di là del fatto che chi finisce in carcere lo fa perché purtroppo ha avuto dei problemi con la giustizia e ci sono tantissime situazioni che portano poi la conclusione di un carcere dalle più efferate a quelle più banali, ma certamente la cosa più importante è realizzare percorsi di recupero in modo tale che queste persone poi nel momento in cui pagano il loro debito alla società abbiano la possibilità di potervisi reinserire. Intervento ai collegi universitari e accordo fra Erdis ed Ateneo. Siamo ai lavori che presto cominceranno nei collegi universitari di Urbino. Stipulato l'accordo fra Erdis Marche e Uniurb Carlo Bo per la realizzazione degli interventi ai collegi che nello specifico sono Aquilone, Serpentine e Vela di Urbino. Benvengano questi lavori. Un saluto poi a Mago Andrew. Pensate, 37 anni di illusionismo nel silenzio è stato festeggiato a Fermignano questo mago straordinario che non udente ed è stato premiato per la sua abilità nel proporre giochi di prestigio. A Fano torniamo all'area dell'ex Agip Waterfront. Giochi fatti. Il comune ha individuato le ditte. Vedete addirittura il rendering di come potrebbero diventare i giardini che si trovano praticamente al centro di Fano. Nel punto in cui una volta c'era un benzinaio che oggi non c'è più, un'area che si può dire delimitata da tante transenne da tantissimi anni, sono state individuate finalmente le ditte che dovrebbero occuparsi dei lavori per rendere questa zona vivibile nella città di Fano in maniera straordinaria. Poi fiera in zona mare e lontana dal centro. Associazioni del commercio approvano. In questo caso gli esercenti fanesi sono contenti del fatto che sia stata spostata, traslata la fiera di Fano che si svolgerà tutta solo lungo un viale e non più su due come era fino all'anno scorso e occuperà la parte di Sassonia Nord e del Lido, ricordiamoci, fiera di Fano che si svolgerà dal 24 al 26 di agosto. Il matatore conquista tutti. Fascia tricolore per Insegno, ve l'avevamo preannunciato. Folla in piazza per la prima serata a Bellocchi con l'intramontabile Pinocchi. Vedete l'investitura di Pino Insegno come sindaco dei paesi di Bellocchi. Questa manifestazione che in questo weekend riempirà davvero la piccolissima frazione del comune di Fano. Poi torniamo all'antenna vicino al cimitero, il Tardavia Libera a Iliad, la società vince il ricorso dopo il no del comune. Quindi il sindaco ha detto andiamo incontro a quello che vogliono i residenti ma al momento Iliad potrà installare la sua antenna. L'abbiamo già detto. Poi a Pergola c'è fiera d'estate, Bancarella in centro storico per chi avesse voglia di fare un giro nell'interno della provincia di Pesaro. L'occasione giusta è quella per andare a Pergola. Sport. Spostiamoci sullo sport con il Corriere Adriatico. Andiamo a vedere la Vispesaro. Abbiamo sottolineato il calendario delle prime partite della Vispesaro. Debutto serale il 2 settembre contro la Spal. La Lega Pro ha diramato il programma delle gare delle prime cinque giornate. Va segnalato che non c'è una volta che la Vis giocherà nei giorni in cui si pensava al momento all'uscita dei calendari. Si inizia il 2 settembre, sabato sera alle 20.45 e non il 3, che è domenica a Ferrara contro la Spal. Contro l'Olbia, probabilmente a Recanati, visti i lavori sul manto erboso del Benelli, appuntamento venerdì 8 sempre di sera. Carrarese Vispesaro è stata programmata per sabato 16 settembre alle 18.30. Visentella si giocherà martedì 19 alle 18.30. Ultima, ma non ultima, la trasferta di Gubbio fissata per sabato 23 in orario serale alle 20.45. Quindi disegnate le prime cinque giornate del campionato di Serie C con la Vis, che non giocherà praticamente mai di domenica. Il Fano cerca rinforzi, siamo ancora al mercato, mentre l'attenzione degli sportivi fanesi è sempre comunque spostata sulle questioni societarie. E poi andiamo alla VL, a Pesaro. VL ha i nastri di partenza, coach Buscaglia attende oggi e domani i giocatori. Da lunedì visite mediche, ritiro a Carpegna, confermate le prime amichevoli. 3 settembre contro la Virtus a Fenza, 6 a Latina, a Re Canati contro il Latina. Lasciamo anche il Corriere Adriatico. Spostiamoci sul fascicolo sportivo del resto del Carlino. Oggi comincia il campionato, quindi migliaia di sportivi italiani tornano ad affollare gli stadi. Anno nuovo, vecchia Inter, tutto ciò, mentre Luciano Spalletti dovrebbe essere designato a brevissimo come allenatore della nazionale, per quanto non ci sia clausola che tenga. Sapete che Luciano Spalletti deve risolvere un contenzioso con il Napoli, un contenzioso da 3 milioni di euro per poter allenare la nazionale, ma la cosa più importante è che lui vuole allenare la nazionale, quindi molto probabilmente andremo in quella direzione. Leo Turrini dice giustamente, caro Luciano, dacci i mondiali. Andiamo a vedere però la prima giornata della Serie A, perché comunque è interessante, si riparte e vedete, prima giornata della Serie A. Si giocherà oggi e oggi saranno giocate le partite Empoli-Verona, Frosinone-Napoli, Genoa-Fiorentina e questa sera Inter-Monza. Domani andranno in onda Roma-Salernitana, Sassuola-Atalanta, Lecce-Lazio, Udinese-Juventus. Si concluderà il programma lunedì 21, fra due giorni, con Torino-Cagliari e Bologna-Milan. Quindi davvero saranno due giornate, poi ci sarà la sosta della nazionale. Riparte il campionato di Serie A, vedremo chi quest'anno succederà al Napoli, se sarà il Napoli a succedere a se stesso come campione d'Italia o se arriverà un'altra squadra a prendersi il titolo. Poi anche qui, torniamo allo sport locale, vedete anche il resto del Carlino riprende il calendario designato delle prime cinque giornate, poi sempre notizie di mercato per quello che riguarda il Fano, mentre invece la VL siamo ai commenti degli addetti ai lavori, dopo che ieri abbiamo sentito che anche i tifosi si aspettano tanto dalla VL quest'anno. In realtà qui ci sono diverse interviste, Lucio Zanca, Spiro Lecca, Marco Aloi, Santi Pugliesi dicono la propria sulla VL, sono tutti abbastanza ottimisti sul fatto che quest'anno dovremmo divertirci con la Carpegna Prosciutto. Noi lo auguriamo tutti perché davvero il basket a Pesaro è un'istituzione, vedere il Vitri Frigo Arena piena di gente per seguire la squadra principale di Palacanesto che non dimentichiamoci è stata due volte campione d'Italia a cavallo fra gli anni 80 e 90 quindi davvero tanta passione a Pesaro e speriamo che la VL quest'anno possa fare tanto bene. Chiudiamo il resto del Carlino Sport, sabato lo sapete leggiamo insieme a voi anche le prime pagine dei quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, abbiamo cerchiato questa notizia che è agghiacciante fatecelo dire, morti e feriti in Ucraina a quota mezzo milione quindi la guerra che è cominciata circa un anno e mezzo fa e che da un anno e mezzo sta sconvolgendo l'Ucraina dopo l'invasione da parte della Russia ha portato a oggi a mezzo milioni fra morti e feriti, è davvero una cifra agghiacciante che ci fa capire quanto la guerra sia una cosa incredibilmente assurda. Così come è assurdo quello che avviene ed è denunciato dal messaggero femminicidi stretta d'estate, è una estate drammatica per quello che riguarda la morte violenta delle donne, ogni giorno si aprono i giornali, si guardano i telegiornali e ci si rende conto di quello che avviene proprio con morti una dietro l'altra, troppe vittime dopo le denunce, sprint sul DDL, menditto, corso obbligatoria per i pubblici ministeri, pensate a Palermo in sette abusano a turna di una ragazza, noi cento cani su una gatta. Sono frasi e concetti che fanno davvero rabbrividire, d'altronde la questione va affrontata in maniera molto, molto, molto ampia. Non dimentichiamoci che è di questi giorni una boutade che riguarda uno dei principali esponenti, si può dire, della difesa italiana che peraltro è stata destituita dopo quello che ha fatto, autore di un libro sconcertante, pieno davvero di grandissimi concetti sessisti, violenti, anti, quindi purtroppo un libro che viene letto da tante persone che magari ci si ritrovano anche e di ieri una sentenza incredibile che ha portato all'assoluzione dall'accusa di violenza di gruppo di un gruppo di ragazzi che avevano violentato una ragazza. Secondo la sentenza non si rendevano conto di quello che facevano, risultato è che poi si sposta completamente la percezione di quello che si fa non ci si rende conto del fatto che le donne diventano vittime di situazioni dove peraltro nella maggior parte dei casi vengono addirittura uccise in maniera drammatica da chi fino a pochi giorni prima magari è il compagno di vita e cose che avvengono in famiglia. Quindi è davvero una questione gravissima sulla quale bisogna intervenire. Il messaggero ci dice che ovviamente tutto deve partire da un aspetto legislativo, ci deve essere chiaramente una stretta perché non è accettabile che nell'ultimo caso per esempio è stata uccisa una donna che aveva denunciato colui che poi si è reso protagonista di questo delitto così drammatico, quindi l'aveva denunciato ma purtroppo non è successo niente ed è andato a finire proprio nella maniera peggiore. Chiudiamo il messaggero, torniamo appunto sul calcio che vedete con il resto del Carlino, sottolineiamo questa e vediamo questa bella foto di Luciano Spalletti che festeggia lo Scudetto del Napoli e tutti ci auguriamo che possa diventare il nuovo CT della Nazionale perché davvero la Nazionale ha bisogno di riprendere la sua gloria e tornare appunto magari anche ai mondiali è una cosa che ci aspettiamo tutti, poi vedete il resto del Carlino, ve l'abbiamo accennato poco fa, è stato mandato via chiaramente dal comando il generale Vannacci, l'autore di quel libro di cui parlavamo prima. Ultimo quotidiano che vediamo oggi, bolla cinese, rischio crisi, lo abbiamo sottolineato questo titolo e riguarda la crisi del gruppo immobiliare cinese che potrebbe portare degli sconvolgimenti economici a livello mondiale, ma abbiamo sottolineato il titolo anche perché vedete Giorgia Meloni sta studiando azioni contro il caro benzina, ipotesi sconti al sud e via dicendo certamente che questo aspetto del caro benzina è davvero caratterizzante di questo momento dell'estate, allora noi grazie al Corriere della Sera di ieri possiamo fare un bel approfondimento su quello che riguarda il prezzo della benzina, vedete benzina in Italia le tasse più alte, i consumatori chiedono di ridurre le imposte, pensate che sono pari al 56% le imposte che si pagano sulla benzina che noi acquistiamo alle pompe, ma andiamo a vedere esattamente qual è il vero peso del fisco sul pieno, radiografia dei rincari. Benzina e diesel in aumento, ma da cos'è composto il prezzo? Il prezzo finale pagato dai consumatori è composto da tre elementi, il costo della materia prima, cioè il carburante, le accise che sono imposte indirette e l'IVA al 22% che si applica sia sulla materia prima sia sulle accise, quindi ci fa capire che l'IVA si applica sia sul prezzo del carburante ma anche su quello delle accise, quindi cresce proporzionalmente col prezzo delle due prime componenti. Quanto valgono le accise? In base agli ultimi dati del Ministero delle Imprese pubblicati il 14 agosto di quest'anno e relativi alla media della settimana precedente, le accise imposte su un litro di benzina valgono 0,728 euro, mentre sul gasolio 0,617. Da dove nascono le accise che dal 1995 sono state accorpate nel prezzo del carburante? La prima accisa è stata introdotta nel 1935, 1,9 lire per finanziare la guerra in Etiopia. Ne sono poi seguite altre, 14 lire per la crisi di Suez nel 1956, 10 lire per la tragedia del Vaillon nel 1963, 10 per l'alluvione di Firenze nel 1966, 10 per il terremoto del Belice del 1968, 99 lire per il terremoto del Friuli nel 1976, 75 lire per il terremoto dell'Irpinia nel 1980, 205 lire per la missione in Libano nel 1982, 22 lire per la missione in Bosnia nel 1996, a cui si aggiungono gli aumenti recenti per la ricostruzione dell'Aquila per il terremoto in Emilia e il bonus gestori del 2014. Qual è il carico fiscale complessivo? Sul litro di benzina 1,061 euro, sul gasolio 0,921 euro. Quindi pensate, quindi siamo davvero più della metà del prezzo. Per il diesel si tratta della componente fiscale più alta dell'Unione Europea. Poi tante altre cose, quanto incassa lo Stato, secondo quanto comunicato dalla Roggeneria Generale dello Stato, nei primi sei mesi del 2023 c'è stato un incremento del 20,3% degli introiti e parliamo di quasi 2 miliardi di euro. E un'ultima curiosità, perché c'è differenza tra i prezzi praticati in autostrade e quelli sulla rete stradale ordinaria, una delle spiegazioni sono i costi di gestione dei distributori che sulla rete autostradale sono più alti perché comprendono anche la concessione da pagare alle società che gestiscono le reti autostradali. Quindi davvero tutto un insieme di aumenti, aumenti fiscali, accise, pensate in autostrada, i benzinai devono anche pagare il fatto che sono lì per dare un servizio e quindi tutto ciò poi si va a riversare nelle tasche del consumatore che quando va a fare il pieno si ritrova a spendere 50-60 euro quando fino a qualche mese fa ne spendeva i due terzi. È davvero un problema sul quale intervenire perché comunque sia questo discorso crea tantissimi problemi all'economia dai trasporti, considerando che in Italia la maggior parte delle merci viaggia su strada, poi derivano aumenti a pioggia su tutto quello che fa parte della nostra vita quotidiana, è chiaro che con questa situazione le cose si siano difficili ed è anche molto difficile riuscire a comprendere o comunque a capire che quando ci viene detto da ministri che ovviamente sono i primi a dover prendere atto della situazione che in realtà il prezzo della benzina in Italia prima dell'applicazione delle accise è uno dei più bassi d'Europa, questa cosa forse ci dà ancora più fastidio, però tant'è, vediamo e speriamo che si possano trovare delle soluzioni. Oggi è il 19 agosto, pensate che il 19 agosto del 480 avanti Cristo, parliamo quindi di circa 2500 anni fa, si svolse una delle battaglie più importanti, più conosciute, più note della storia. Parliamo della battaglia delle Termopili, le Termopili sono un passo, un piccolo passo che divide la Tessaglia, il lato nord della Grecia con poi il lato sud che va verso Atene, un piccolissimo passo che vedete si trova in questa zona dove c'è un monumento, un monumento intitolato a Leonida. Chi era Leonida? Leonida era il comandante uomini, si sono posti come ultimo avamposto per bloccare l'ascesa verso la Grecia di centinaia di migliaia di persiani. Una battaglia che è passata alla storia perché Leonida con i suoi 300 eroici militari è riuscito a ritardare l'ingresso appunto poi di queste enormi quantità di truppe persiane nell'Attica che poi sono scesi verso Atene grazie al suo intervento, grazie all'avere resistito giorni con solo 300 uomini contro centinaia di migliaia di persiani è riuscito a ritardare il loro ingresso a far riorganizzare l'esercito atenese, famosa la frase, oscureremo il cielo con le nostre frecce. Da questa vicenda è tratto un film del 2017, un film molto spettacolare che vi invitiamo a voler vedere. Chiaramente bisogna essere abbastanza resistenti dal punto di vista dell'impressionabilità perché il film è molto violento anche se molto veloce tratto peraltro da un fumetto 300, questa storia straordinaria accaduta, pensate, circa 2.500 anni fa per chiunque sia stato in Grecia e abbia attraversato quel passo. Nel momento in cui si legge proprio la scritta Termopili viene una certa emozione ripensando a quello che è successo il 19 agosto del 480 avanti Cristo. Andiamo ai programmi di Rossini TV per la serata e cominciamo con il Vangelo di Don Marco Di Giorgio che oggi sarà replicato alle 10.30 e alle 16, è andato in prima ieri pomeriggio alle 17.30 e poi domenica alle ore 8 e alle ore 11. Rossini News, il nostro rotocalco da non perdere, Rossini News Week, le notizie della settimana, sabato alle 19.30 e alle 23.30 in prima e poi domenica domani in replica 6 e mezza, 12 e mezza, 22 e 30. Quindi davvero tanti motivi per seguire Rossini TV e soprattutto tanti motivi per seguirla attraverso la nostra app, scaricate la nuova app di Rossini TV, mettetela sui vostri cellulari e portatevi. Davvero Rossini TV sempre con voi, dovunque siete, seguite le trasmissioni di Rossini TV in streaming, tutti i principali supporti informatici possono scaricare questa app e far sì che davvero la nostra emittente sia sempre con voi. Vi lasciamo alle previsioni meteo, sappiamo già che sarà un weekend condito da un tempo decisamente piacevole, tutti al mare per questo terzo weekend di agosto, buon weekend a tutti, ci vediamo lunedì mattina alle 7.20 su Rossini TV.